Oh, abbiamo claretti dentro, abbiamo claretti dentro, se le vuoi guardare? Beccatela, beccatela. Tira sulla coperta, va, va. Vai. Va beh. Mi chiama? Mi chiama, mi chiama, mi chiama. Mi chiama, mi chiama, mi chiama. Mi chiama, mi chiama, mi chiama. Mi chiama, mi chiama, mi chiama, mi chiama. Peccato per l'ultima. Va beh.